Ben ritrovati amici di Padre Pio TV, oggi Spazio Salute si occuperà non di una vera e propria malattia, ma potremmo chiamarlo un sintomo di tante malattie, alcune meno gravi, meno preoccupanti, altre più serie e da conoscere prima possibile nella diagnosi reale. Un qualcosa che in periodo invernale si sente con molta facilità, parleremo della tosse. Ne parlerà con noi in studio il dottor Cristiano Carbonelli che è il responsabile della fisiopatologia respiratoria di cassa sollievo dalla sofferenza. Benvenuto tra noi dottore. Buonasera, grazie, buonasera ai tre spettatori. Allora noi di solito partiamo con la definizione da manuale, da vocabolario. Che cos'è la tosse oppure dovremmo parlare della tosse o di varie tossi? Giusto, giusto. La tosse intanto ve la posso definire come quella che è la rappresentazione di quello che succede. È una manovra espiratoria espulsiva, volontaria o riflessa, che serve a liberare le vie aeree. Si fa una prima fase di ispirazione, poi si tenta di espirare a glottide chiusa e questo genera una forza espulsiva con la frustata del diaframma che libera la trachea da quella che possa essere una mollica di pane, una gocciolina di acqua inalata o quello che può essere una ipersecrezione di muco in una condizione come può essere quella che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando attualmente di una epidemia influenzale. A volte la tosse è volontaria, altre volte invece è una condizione riflessa, una condizione che non si riesce ad evitare, che persiste per del tempo e che dà fastidio e che porta a ricorrere al medico curante per un bisogno di salute per smettere appunto di tossire, che diventa una condizione fastidiosa. Dà fastidio però evidentemente ha una sua funzione, visto che è il meccanismo che il nostro organismo mette in atto per buttare fuori ciò che non dovrebbe stare in trachea, giusto? Assolutamente. Normalmente le vie respiratorie si liberano da sole con un meccanismo di clearance mucociliare. Tutto l'apparato respiratorio è rivestito di una mucosa con delle cellule ciliate che buttano verso l'esterno, che liberano costantemente come i detergicristalli quelle che sono le piccole inalazioni di polveri o le piccole quantità di muco iperprodotto. Quando la produzione di muco diventa più importante o quando ci siano delle inalazioni di sostanze che non appartengono al sistema respiratorio, ecco che la tosse viene in aiuto a mantenere come dice lei giustamente libere le vie aeree alla loro funzione di scambio dei gas e di ventilazione fondamentalmente. Quanti tipi di tosse possiamo definire che esistono? Ecco, la tosse a volte viene definita come la vera sfida del pneumologo. Il pneumologo studia per curare le patologie dell'apparato respiratorio e molto spesso si deve cimentare con la tosse. La tosse è un sintomo, come dice lei giustamente, di tante patologie diverse. Noi tendiamo a distinguerlo, a schematizzare, a semplificare, a distinguere quella che è la tosse acuta dalla tosse cronica. La tosse acuta è una tosse che è data tre settimane, non di più, e mediamente la tosse acuta è una tosse che può essere secca o grassa a seconda del fatto che si presenti con una ipersecrezione di secreti, di muco, o che invece appunto sia una tosse senza secreti. Mediamente la tosse acuta è una tosse che ha un innesco di tipo infettivo. Molto spesso viene preceduta da una fase prodromica in cui c'è una faringodinia, in cui c'è una rinite. Che cos'è una faringodinia? Un mal di gola, quello che è appunto il mal di gola che il paziente con una virosi respiratoria viene inizialmente coinvolto nelle alte via aeree, appunto con un raffreddore, una sindrome da raffreddamento, o un mal di gola, o l'indurimento appunto delle linfoghiandole attorno al collo. Questa virosi, inizialmente delle alte via aeree, più tardi si trasmette anche alle basse le vie aeree e provoca la tosse. Provoca la tosse come meccanismo riflesso di appunto mantenimento di un'omeostasi, di pulizia dei polmoni, che sono una spugna meravigliosamente complessa, ma che deve trasmettere quello che è lo scambio di gas e quindi i globuli rossi devono potersi ossigenare. Non deve essere presente altro materiale nei polmoni. La tosse quindi si distingue in tosse acuta e tosse cronica e nel contesto della tosse cronica invece molto più spesso c'è il rapporto con lo specialista e con l'ospedale, perché mediamente la tosse acuta viene gestita dal medico di medicina generale, perché quelle che sono le condizioni di terapia con tachipirina o quelle che sono le condizioni di necessità di una terapia antibiotica vengono mediamente gestiti dal medico di medicina generale. E' la tosse cronica che afferisce più spesso allo specialista, all'ospedale, perché diventa appunto per persistente, per settimane, mesi e quel tipo di argomento ha bisogno di essere disciplinato da un'interazione tra il medico e il paziente che veda esplorati tutti quelli che sono le condizioni ancillari, accessorie che permettono appunto di individuare la causa della tosse e di stabilire quella che può essere un giusto inquadramento anche terapeutico. Adesso cerchiamo quindi di capire quali possono essere le cause della tosse e in particolare, forse per esperienza diretta, quello che è il fastidio più grande della tosse, che non è il tossire in sé, quanto quel fastidiosissimo pizzico che uno sente e che induce a tossire in continuazione. Quello è anche quello un sintomo o è la causa? Quella è l'irritazione, l'irritazione che viene ad essere percepita appunto come un vellichio faringeo o come appunto un senso di pizzicorino che rappresenta lei, che è dato dal fatto che nella maggior parte dei casi la tosse acuta, cioè quella che inizia con anche un po' di febbre, con un pochettino di sindrome influenzale, fa determinare da parte del virus responsabile una lesione nella struttura del rivestimento mucoso delle vie aeree, per cui queste cellule perdono il cappello, vengono spellate dal virus. Perdendo il cappello c'è tutta una irritazione del sistema diciamo sottomucoso vicino che è innervato e questa irritazione dei nervi rappresenta appunto questo fastidioso sintomo di pizzicorino che il paziente rappresenta e che lo induce appunto a insistere per liberarsi da un sintomo fastidioso. Quindi questa è la causa del pizzico che poi induce la tosse e la irritazione e in generale le altre cause della tosse quali sono? Le altre cause della tosse possono essere quelle che inducono il medico a ulteriori accertamenti, ad esempio il paziente che è un fumatore che racconta di avere una modificazione delle caratteristiche del proprio sintomo tosse, racconta questo al medico di base, può raccontare ad esempio di avere la emissione insieme con la tosse che è normalmente una tosse mattutina, quella del fumatore, compare la presenza di qualche piccola traccia di sangue. Questo ovviamente è un sintomo d'allarme, è un sintomo d'allarme insieme con ad esempio il dolore toracico, insieme con la fatica a respirare, condizioni che prima non erano presenti che si accompagnano a un sintomo noto che è quello della tosse del fumatore e che devono indurre a ulteriori accertamenti che inizialmente sono quelli di imaging radiologico, quindi una radiografia del torace o un esame TAC del torace per sincerarsi sulle condizioni di salute del sistema respiratorio. Lei pensi che la tosse del fumatore è tipicamente una tosse mattutina, il risveglio, perché? Perché durante la notte le sigarette hanno la capacità chimica di bloccare il meccanismo di azioni di tergicristallo delle vie aeree, il fumo di tabacco blocca questa cosa e quindi il paziente non tossisce più, ha molto catarro il fumatore mediamente, ma la sigaretta gli consente di tenerlo dentro e il catarro è di non tossirlo. Ecco che al risveglio il fumatore ricomincia a dover espettorare queste secrezioni e la prima sigaretta lo mette nelle condizioni di non tossire più. Questa tosse del fumatore, che è una tosse che lui tollera bene, cambia a volte e diventa una tosse persistente nonostante la sigaretta che doveva essere la sua terapia, anche se ovviamente sappiamo che è il male che fa il fumo di tabacco e la tosse che cambia nel fumatore, il perdere peso o alcuni sintomi che si associano a quello che è la normale storia del fumatore abituato a fumare, questi sintomi che cambiano devono portare al medico e allo specialista per fare ulteriori accertamenti. Quindi la tosse non è in grado di suggerire la diagnosi da sola, è importante capire a quali altri sintomi è associata e questo poi aiuta il medico a capire cosa c'è dietro, qual è la reale causa della tosse. Assolutamente, proprio come dice lei, l'incontro tra medico e paziente che riferisce di essere infastigito da un sintomo persistente come la tosse, serve proprio a mettere insieme il racconto del paziente, che caratteristiche ha la sua tosse, con quelle che sono la sua storia generale di salute, se ad esempio ha altre patologie, ad esempio il cardiopatico che ha una fase di scompenso con le gambe gonfie, deve essere osservato dal pneumologo, non deve essere guardata soltanto la sintomatologia tosse, ma il pneumologo deve saper guardare da un punto di vista olistico, in maniera internista, tutta quella che è la storia del paziente per chiedere quali sono gli altri sintomi associati o le altre condizioni che possono essere andate fuori da un compenso, da un controllo e quindi farmaci associati che a volte sono essi stessi farmaci del paziente con cardiopatia o con ipertensione, causa di tosse, pensiamo agli ace inibitori che sono farmaci ottimi, molto utilizzati, tranne per il fatto che hanno la capacità di innescare la tosse. Quindi basta a volte soltanto chiedere se è un farmaco assunto a determinare la tosse o comunque condizioni che poi devono essere più attentamente indagati dal pneumologo perché ci sono poi anche le patologie del sistema respiratorio che determinano la tosse, patologie broncostruttive che sono le patologie che stringono i bronchi come l'asma, l'enfisema o la bronchite cronica complicata con ostruzione delle vie aeree o ci sono anche altre patologie che sono le patologie restrittive del sistema respiratorio che senza complicare troppo il racconto sono patologie che afferiscono al sistema respiratorio restringendolo o per un meccanismo in suo interno di fibrosi, di alterazione dell'artitrave, dell'elasticità fondamentale del polmone o per una condizione esterna di cifoscoliosi che anche essa può per esempio determinare come sintomo la tosse ma è chiaramente uno dei sintomi di un contesto molto più complesso che non deve essere guardato nello specifico del sintomo minimo della tosse. A Spazio Salute stiamo parlando della tosse con il dottor Cristiano Carbonelli che è il responsabile della fisiopatologia respiratoria presso casa sollievo della sofferenza. Abbiamo fatto una lunga introduzione e siamo arrivati al punto della diagnosi a partire dalla tosse che è un sintomo che viene però valutato insieme agli altri sintomi che la accompagnano. Vediamo con che tipo di iter si arriva alla diagnosi, ce ne parlerà la dottoressa Maria Arcangela Grimaldi che è pneumologa presso casa sollievo della sofferenza. Benvenuti nella nostra realtà ambulatoriale, siamo qui per cercare di presentare quale metodiche strumentali cercano di appunto supportarci nell'iter diagnostico della tosse e l'argomento di cui ne parliamo oggi. Tosse che come sappiamo è un sintomo che induce il paziente a rivolgersi nel 20-25% dei casi in primis al medico di medicina generale e poi in un terzo dei casi allo specialista appunto pneumologo. L'esame base nostro appunto strumentale è rappresentato dalla spirometria, quindi l'esame spirometrico semplice, la spirometria semplice è quella globale che è qui rappresentata dalla cabina pletismografica con cui valutiamo i volumi polmonari sia quelli statici che dinamici. Perché? Perché cerchiamo appunto di indagare se siamo di fronte a una tosse che sia di pertinenza, di deficit ventilatorio, ostruttivo o perché non restrittivo. Ostruttivo quale potrebbe essere l'asma, la broncopneumopatia cronocostruttiva, l'infisima o restrittivo quale le pneumopatie interstiziali, la scogliosi oppure le malattie neuromuscolari. Quando eseguiamo la spirometria semplice, quindi valutiamo i volumi polmonari del paziente, se siamo di fronte a un deficit ostruttivo dobbiamo appunto indagare se possa essere un quadro che depone per BPCO o di asma, oltre che al quadro clinico. In che maniera si esegue? Si esegue con il test di broncodilatazione farmacologica che è rappresentato dalla somministrazione di questo farmaco, ovvero un broncodilatatore e il sabutamolo, 4 PAF. Si fa la spirometria basale, dopo aver fatto quel farmaco si rivalta a distanza di 20 minuti se i volumi polmonari migliorano oppure no, una percentuale che non siamo qui a precisare. Se è positivo questo esame, noi deporremo diagnosi, diciamo la tosse, sarà appunto di pertenenza asmatica e se è negativa ci orienta per la BPCO. Quando invece la spirometria basale risulta essere nella norma, il test di broncodilatazione è negativo, ricorriamo al test di provocazione bronchiale con la metacolina, che invece è l'esatto opposto, quello di somministrare dosi scalari di metacolina, che è un bronco costrittore, per vedere se i volumi polmonari si riducono. Se anche questo è nella norma, escludiamo le diagnosi di asma. L'ultimo esame che viene valutato appunto anche qualora ci fosse presente la tosse, è l'esame di diffusione appunto alveolo capillare del monossido di carbonio, che risulta essere alterato nelle patologie polmonari. Ovviamente nei pazienti con patologie restrittive risulta essere appunto legato a una tosse prevalentemente secca, invece ai pazienti in cui c'è un deficit ostruttivo abbiamo una tosse produttiva. Quindi questi esami sono quelli che ci possono orientare nella diagnosi e ovviamente supportare l'iterdiagnostico della tosse. Dottore, abbiamo capito che davvero c'è un'evoluzione proprio nelle diagnosi e quindi anche nella fisiopatologia respiratoria e nelle attività che voi svolgete per arrivare a porre delle diagnosi. C'è veramente un salto in avanti da ammirare. Grazie, sì. In effetti la fisiopatologia respiratoria di Casa Sollievo va a integrare le conoscenze storiche della fisiopatologia respiratoria con nuove conoscenze che sono quelle della pneumologia interventistica che attengono allo studio del polmone e del sistema respiratorio anche con tecniche di tipo endoscopico. Quindi ci sono condizioni rare che devono essere diagnosticate anche con una broncoscopia. Mi riferisco per esempio a rare condizioni di broncomalacia, ad esempio, di tracheo broncomalacia, che sono condizioni in cui il rivestimento strutturale della trachea e dei grossi bronchi, che è cartilagine, che è duro, che dovrebbe mantenere il tubo rigido della trachea e dei grossi bronchi, viene ad essere perduto e quindi queste cartilagini diventano molli e si afflosciano sotto il minimo atto espiratorio impedendo quella che è la normale funzione espulsiva della tosse che diventa un meccanismo inefficace, un meccanismo inconcludente. La broncoscopia non fa altro che, posto il sospetto ovviamente, diventa un caso limite quando tutte le tecniche di diagnosi non invasiva e tutte le intelligenze non invasive, tutti i colloqui, tutte le diagnostiche del caso non abbiano portato a successo, anche le tecniche di pneumologia interventistica, che sono fiorenti in casa sollievo, possono andare ad offrire il loro contributo per una diagnostica di condizioni ovviamente particolari. Altre condizioni che si diagnosticano con le tecniche di endoscopia sono quelle di bronchiti particolari, le cosiddette bronchite osinofile. Sono bronchiti che determinano un impegno infiammatorio delle vie aeree da parte di un elemento cellulare che è l'eosinofilo, che è uno strano tipo di globulo bianco, normalmente utilizzato dal sistema immunitario per contrastare le infezioni da vermi, ma quando il nostro vivere era un vivere promiscuo con gli animali per condizioni di sopravvivenza, perché li si allevava in casa o vicino in casa. Adesso gli osinofili sono presenti soltanto disoccupati, dovrebbero lavorare soltanto nelle allergie, lavorano un po' nelle allergie o sono responsabili di tosse. Oppure per qualche pesce crudo non abbattuto bene. Per qualche pesce rosso oppure per qualche pesce crudo abbattuto dell'anisakis. Gli osinofili restano invece responsabili in condizioni rare di tosse che si diagnosticano con la broncoscopia quando ci si pensi, perché non è proprio asma, ma è una forma particolare di bronchite, quella eosinofila, che si può curare con cortisone, sappiamo gli effetti collaterali del cortisone, quindi bisogna fare prima una diagnosi, prima di dare terapie steroidee e le tecniche di pneumologia interventistica offrono il loro contributo. Parliamo di condizioni minimali, quelle che sono le condizioni croniche di tosse sono, appunto come parlavamo precedentemente, sono mediamente condizioni che meritano un work-up diagnostico più semplice, più elaborato e ricordiamo le principali condizioni responsabili di tosse cronica sono rappresentate da situazioni che con i polmoni non hanno a che fare nulla. Sono per esempio il reflusso gastroesofageo che causa in grande percentuale condizioni di tosse che altrimenti non si diagnosticano e lo sgocciolamento retronasale. Sono due condizioni, una di origine otorino-lingoiatrica, paziente con sinusopatia cronica, con naso deviato, con ipertrofia dei turbinati, non riesce a liberare bene il naso, il naso non funziona più come quello che è il condizionatore che riscalda e umidifica le vie aeree, l'aria inalata, deve essere riscaldato e umidificata. Quando il naso non funziona più per condizioni anatomica o patologica c'è uno sgocciolamento retronasale costante, posteriore, soprattutto notturno, che determina una raccolta di munchi al mattino o al risveglio che è fastidiosissimo sopportare e che c'è necessità di espellere con la tosse. Quella è una tosse particolare e l'altra è la tosse del reflusso gassoesofageo. Il paziente con gastrite, con ernia iatale, che ha delle manifestazioni di ritorno di acidi alla laringe, le vie aeree, che irritano di molto i meccanismi di omeostasi dell'apparato respiratorio e provocano la tosse. Non c'entrerebbe niente il polmone, il polmone è del tutto sano, la lastra del torace sarà del tutto normale, la spirometria sarà del tutto normale, ma quello che rimane è la tosse. È un medico che fa di tutto per indagare, per trovare una soluzione respiratoria, quando invece la cura dell'un caso è una terapia antiacida, dell'altro caso invece è una terapia di clearance del sistema naso-laringeo, perché questa tosse da ristagno di munchi venga ad essere debellata. Quindi abbiamo capito che la terapia riguarda non il sintomo della tosse, ma la patologia che causa la tosse. Brevemente abbiamo pochi secondi, solo per una domanda che attingiamo dalla stampa. Il Corriere Salute di recente ha parlato della non opportunità di fare l'aerosol ai bambini. Condivide? Quelle sono, imparavo da un amico, da Nicola Fiorentino, che sono dei titoli che sono un pochettino allettanti. Il titolo racconta in questo articolo del Corriere Salute che l'aerosol non deve essere dato ai bambini, invece nello svolgimento il pediatra racconta che l'aerosol è fondamentale nei bambini, soprattutto nei bambini molto piccoli, soprattutto quando i bambini essendo piccoli non sanno soffiare il naso, non riescono a liberare le vie aeree. È chiaro che le forme inizialissime di virosi nei bambini sono di riniti e sono di laringiti, ma nello sviluppo successivo, quando i bambini non riescono a liberare le vie aeree, si intasano i muchi e la soluzione che rappresenta il pediatra nell'articolo che va letto fino in fondo è che basta ascoltare i polmoni. Ascoltare i polmoni per sentire broncospasmo, per sentire un gombro bronchiale di muchi nei polmoni dei bambini e quello è una condizione da trattare ovviamente con l'aerosol e quindi questo titolo che era un pochettino allettante nascondeva poi fondamentalmente la realtà che tutti i pediatri e i medici di base utilizzano per i loro assistiti, cioè di dare l'aerosol quando serve. Quindi cari amici telespettatori non leggete solo i titoli, grazie al dottor Carbonelli, grazie a voi per l'attenzione anche oggi.